Alla Link Motors Putignano via Napoleone Buonaparte 116B vi presentiamo la nostra meravigliosa Fiat 500 18 cavalli, immatricolazione ottobre 1971, chilometri 45.000 Autovettura restaurata esternamente, fondi buoni, meccanica in ordine Come potete notare, il tettuccio apribile, interni in pelle Fantastica, la nostra 500 Che aspetti? Prendi il tuo appuntamento alla Link Motors Putignano Contattaci al numero 080 81 72 831 377 35 66 041 Puoi anche visitare la nostra pagina web www.linkmotors.it Filiale Putignano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.